Ciao a tutti allenatori di Pokémon, qui è bella faccia e spero tutto bene Allora, 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 cominciamo subito Innanzitutto mettiamo il sacro cappellino di Pikachu Perché questo, come tutti sappiamo, ci porta molta fortuna Pica picà E vi ricordo che potreste vincere il gioco per la Nintendo Switch di Pokémon Scarlatto Per vincerlo è semplicissimo Dovete lasciare un bel mi piace a questo video Dovete essere iscritti e dovete aver attivato la campanellina delle notifiche E oggi apriamo questo Il set allenatore di Gran Festa Ragazzi, questo box è rarissimo Costava veramente tanto E il prezzo si alzerà sempre di più Quindi dovete spaccare questo video di mi piace Per favore, arriviamo a 6.000 mi piace per questo video E se fate i bravi Guardate cosa apriamo forse in un prossimo video Questo Che adesso metterò una foto qua davanti perché non si vede Questo qua Ragazzi Sapete che cos'è? Questo qui è l'ultra premium di Charizard Proprio così 200 euro di pack E se lasciate 200 miliardi di mi piace Forse lo apriremo in un prossimo video Ok Benissimo Apriamo subito il set allenatore di Gran Festa Sono veramente Veramente contento Perché questo è un set bellissimo A mio parere Ci sono delle carte Incredibili E ovviamente qua dentro ci sono una marea di Pikachu Che io ho già E vi devo far vedere prima o poi la mia collezione di Pikachu In italiano Eccolo qui Bello gigante Apriamolo Non si sta nemmeno nella telecamera Abbiamo il bel libricino Con tutte le carte che possiamo trovare Bello Questo lo tengo E io vorrei trovare questo Si vede? Il Charizard Il Blastoise E il Venusaur Queste sono le carte che voglio Le carte che punto ad avere ragazzi Speriamo tanto di riuscire a trovarlo Cioè guardate che bel pack Cioè è bellissimo Apriamolo Oh mio dio Quante cose belle Che ci sono qua dentro Ovviamente questo Via Non ci serve Allora Qua dentro il libretto delle istruzioni Non ci serve Dentro abbiamo Le bustine Di Gran Festa Bellissime Tutte nere Con Pikachu E la sua coda Fantastiche Abbiamo Le energie Ovviamente Abbiamo il codicino Che vi lascio sempre qua I divisori I divisori Guardate che belli Cioè neri E bianchi Questi sono i più belli di tutti Cioè questo set mi piace un sacco I dadi Che carini Il dado trasparente Non so quanto si possa vedere Poi ovviamente I segnalini E abbiamo anche questa carta Greninja Bello Greninja promo Nella bustina Non so se tenerlo qua nella bustina Oppure toglierla Ma ecco qui quello che ci interessa Allora vediamo Una Due Tre bustine Di fiammo scure Che qui possiamo trovare Tanta roba Uno Due bustine Di fragore ribelle E ben Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci bustine Di Gran Festa Se queste qui solamente singole Costano Un rene Ok direi prima di aprire quelle Per me meno interessanti Fragore ribelle Apriamo prima quelle di fragore ribelle Vai subito Sono tanti pacchettini E non vedo l'ora di aprirle tutte Ok subito codice Codicino per voi Uno Due Tre Quattro Ti prego Fammi trovare quel charizard Per favore Io voglio quel charizard Ok Energia Paletta maledetta Bellissimo Paletta maledetta Non penso di aver mai aperto Fragore ribelle Comunque sia bello Questo ma è una spada Doe blade Carino Bello Stanchi Ma che belle carte ci sono ragazzi Ok Clefairy Voltrobe Bellissimo lui Mamma mia Si che lui è il raffreddore Come me in questo momento Poi vediamo ragazzi Zamazenta C'è Attenzione 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 Navu Max Navu Max Chieguo Oh mio Dio Iniziamo col botto Malamar V Max Guardate che bella Oh mio Dio Ma che fortuna Subito bustina È bellissima Subito 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 Nella bustina No vabbè ragazzi Grande Grazie Fragore ribelle Ti voglio bene C'è subito Una mega carta fantastica Arcobalenosa Io la chiamo arcobaleno Mi piace perché è tutta arcobaleno Bellissima Cioè guardate che è bella 180 d'attacco Muoviamoci Vorrei stare qua ancora Guardare questa carta Perché è bellissima Sono contentissimo Di averla trovata Ma dobbiamo aprire ancora Tantissimi Altri Pacchetti Un'altra di fragore ribelle Secondo me oggi Abbiamo la fortuna che gira Oggi abbiamo la fortuna che gira Ragazzi Allora Codicino Uno Due Tre Quattro Ho sentito grattare Mi sembra Secondo me È la mia immaginazione Energia acqua Indede Con la scopa Carino Ma bello Bellissimo Si vede che non l'avevo mai aperta Questa espansione Ci sono dei pokemon Che mi piacciono tantissimo Guardate che roba Ok Vediamo un pochettino Doppio 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 Energia cattura Bella Sotto Bello Koalosal Fantastico Bello Una holo E una reverse Molto belle Cioè guardate anche Energia cattura Che carina Passiamo a fiamme oscure E io vi dico solo Che qua dentro C'è il charizard In fiamme oscure C'è un charizard O due Non mi ricordo Vediamo Codicino Uno Due Tre Quattro O se qui trovo un charizard O qui o là C'è spacco tutto Ok Energia foglia Pupitar E' meglio che non leggo i nomi Altrimenti faccio delle figure Incredibili Diglett Jigglypuff Roblet Kubiko E poi Sotto Nada Charizard ti prego Fatti spacchettare Prossima bustina di fiamme oscure Dai ti prego Ti prego Ti prego Ok Codicino One Two Three Four Ok Prepariamoci Energia Fulmine Campanella Familiare E' ora di pranzo Questa la usa mia mamma Quando è ora di Di chiamarsi per cena Vediamo un po' ragazzi Se troviamo qualcosa di buono In fiamme oscure Cioè siamo partiti col botto Ok abbiamo Milotic E poi sotto Niente Golurk Ti prego Pikachu Ti tocco il naso Dai Portaci fortuna Portaci fortuna Per favore Cioè ti prego Dai Allora Codicino Per voi Io spero Con tutto il cuore Di trovare Charizard qua O Charizard di là Che tanto valgono Una marea Entrambi Ok Bunny belly Meltan Snibble Sweet Naked Viggin Ok Cabo sotto Chi è Chi è Magnetrick Malissimo queste bustine Di fiamme oscure Sono rimasto veramente Molto amarezzato Ma adesso abbiamo queste Dieci bustine Di gran festa Quelle che più aspettavamo Dai per favore Fazzi spacchettare Qualcosa di buono Allora Queste le devo girare Non so come sia il trick qua Quindi facciamo Così Intanto Codicino Allora Com'era qua il trick Io penso che sia Alla fine Quella buona Ok Dialga Che fra l'altro Questa espansione Stavo cercando Di collezionarla tutta Vediamo se trovo qualcosa Che mi manca Dialga Poi Kyogre Poi Xerena Nomi più semplici per me Che non so Pronunciare un cavolo Sotto Ricerca Accademia Mi ha ingannato Ok Andiamo con la prossima Ok Vedo subito Zaun Dialga Dialga Poi di nuovo questo Che devo riuscire a pronunciarlo Xerneas Quando bella faccia Pronuncia Nomi di Pokémon Straaaaaa Shining Magikarp Sotto c'è qualcosa Non riesco a capire Shining Magikarp Questa deve valere un po' Perché io la metto nella busta Perché secondo me Questa un pochettino vale Poi vediamo sotto Mew Ah ecco il codicino Che non vi ho fatto vedere Ok Mew Che ce l'abbiamo Ma Magikarp Non ce l'avevo Tanta roba Subito in bustina Che carino Che belli erano ragazzi I Pokémon Del set base Forza dai Qualcosa di buono C'è un altro Ma quanti Dialga avrò A breve No Palkia E questo scuso Palkia un altro Poi Rashi Poi Cosmog Momento Momento E un Pikachu Surf V Max Che ne ho 32.000 Vabbè Buono 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 Codicino Che mi scordo sempre Di farvi vedere Vabbè Un Pikachu cicciotto Che mettiamo in bustina Perché è super brillantoso Però di questo Secondo me Ne ho tre Tipo Continuiamo la nostra ricerca Del Charizard Di gran festa Vediamo Allora Intanto Codicino Girato al contrario Giriamo le carte Danno spoiler Mi sa che ho spoiler Zekrom Groudon Groudon Danno spoiler Ok Lugia Rashi Un altro Shining Magikarp E Una ricerca Accademia Cioè Ma che è Siamo partiti Siamo partiti col botto Con la V Max E non troviamo più Un cavolo di niente Adesso Allora Codice Cioè per favore L'ho pagato un sacco Questo box Per piacere Ok Lugia Zekrom Poi Poi Palkia E Ma dai Solgaleo Ok Sei carino Ma non sei Charizard E nemmeno Blastoise E Venusaur Ma quanto è difficile Trovare quelle carte Comunque Se fate la collezione Io vi consiglio Di comprare Non lo so Un set allenatore Oppure un box O due Di un'espansione Ragazzi E poi comprate le singole Perché altrimenti Ci andate a spendere Un sacco di soldi Cioè veramente Veramente Non le ritroverete più Vai Andiamo a vedere Palkia Poi Zekrom Tutte uguali Tutte uguali Oh Adestramento Arriva il Team Rocket Bella questa Secondo me Ci vale qualcosa Sotto Uno Zachan V Che penso di averne Cinque di queste Queste belle vecchie Così Le metto nella busta Perché secondo me Qualcosina valgono E poi non le ho Continuiamo lo spacchettamento epico Vedo già un Ho 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 Allora Codicino per voi Non ne mancano tante Non ne mancano per niente tante Allora io direi di fare così Secondo me il trick è così Ci provo Ok Ho ho Poi Grodon Poi Che è un Pikachu È Pikachu Sì Pikachu Ma le sono memoria E poi Reshiram Che schifo Vabbè solo perché a picco Su gli voglio bene Lo metto nella bustina Sì però Certo che potreste far trovare Delle carte diverse Se tutte doppie Se tutte doppie ragazzi Sono tutte Doppie Allora proviamo a fare il trick Anche se non so Se sia così o no Groudon No è un altro Ho ho Ormai 15 ne ho Poi Poi Solgaleo E sotto Lugia Mamma mia che pacchetto inutile Ultimo pacchetto Cioè ti prego per favore Per favore ti prego Qualcosa di buono qua Allora codice Facciamo il trick Proviamoci Gira Dialga Poi Chiogre Mew E Xerneas Cioè proprio quello che poi Non sapevo neanche pronunciare L'ha fatto apposta Il destino Ah questo box Non mi è piaciuto Purtroppo Fragore Ribelle Ha vinto tutto Con lui Poi vabbè abbiamo trovato Questi Pikachu Che vabbè Tanto ce li avevo Pikachu Surf Pikachu Surf V Pikachu Poi vabbè Addestramento Arriva il Team Rocket E due Magikarp Non lo so ragazzi Secondo me Sfortunissima abbiamo avuto Fatemi sapere cosa ne pensate Qua sotto nei commentini E noi ci vediamo presto In un nuovo fantastico video Ciao Ciao